Ingegner Tasso, il settore D.E. sta attraversando un periodo particolarmente difficile, ce lo racconti, ci snoccioli qualche dato e poi soprattutto ci parli di come sarebbe possibile poterlo risollevare. Sì, il momento non era il migliore, questo è vero, però guardiamo il lato positivo. Sicuramente possiamo dire che oggi è il miglior momento per acquistare casa, per esempio, e quindi siccome è vero pure che dei risparmi ci sono e la casa resta sempre il sogno degli italiani, non a caso gli italiani sono quelli che posseggono almeno l'80% in proprietà le abitazioni, per chi, soprattutto giovani, devono coronare o formare una famiglia, il miglior momento in assoluto, un momento storico, sicuramente è questo, che i prodotti ormai sono di qualità sia per via delle leggi, e anche poi oggi non si scherza più, quindi i controlli, le certificazioni, il settore veramente è sicuro, chiamiamolo tra virgolette, sotto il profilo qualitativo. E sotto il profilo, diciamo così, purtroppo dei prezzi, soprattutto se parliamo di nuove costruzioni, ci si deve forzatamente adeguare ai tempi, oggi non si può parlare di margini, oggi si parla di lavorare, di muovere, e questo è il tema. E come può il mondo creditizio sostenere l'edilizia in questo momento? Quali potrebbero essere le misure più urgenti da attuare, secondo lei? Il problema forse da risolvere è proprio quello, cioè che effettivamente non si può dire che da un momento all'altro non c'è più possibilità di fare credito, ecco forse la morsa è un po' troppo stretta, secondo me, e in effetti vediamo che aiutando i clienti, cercando alternative, perché il cliente magari parla con un solo istituto e trova la porta chiusa, però effettivamente bisogna dire che, certo non è come prima, ma ci sono anche diversi istituti che invece finanziano, valutano correttamente e attentamente cose che facciamo già prima noi, e uno per la convenienza dei prezzi, due perché ovviamente non si può generalizzare che nessuno più può avere accesso al credito, che è un modo di dire, noi in realtà riusciamo ad aiutare i nostri clienti, mi sentirei di poter chiedere al sistema creditizio, ecco forse un minimo di fiducia in più, soprattutto a volte sui giovani, anche con le dovute garanzie, però facciamo che questo settore possa continuare e diamo un po' di fiducia soprattutto ai giovani. In questo momento così delicato per l'imprenditoria, che cosa può rappresentare una donna a capo di un'impresa? Quale valore aggiunto possiamo dare alle imprese? Io sono una giovane, giovanissima, poi un grande maestro, quindi devo dare principalmente i meriti a lui, che mi ha comunque formata e temprata. Certo che per le donne è sempre difficile affermarsi, di farsi valere, si fa sempre il doppio della fatica, ma sono certa che le donne possono dare alle imprese una grande forza, struttura, sostanza, organizzazione soprattutto, nonché la determinazione che non è inferiore rispetto a quella degli uomini, però ovviamente ci si impiega un pochino più di tempo. Allora parliamo degli ostacoli, quali sono a suo avviso gli ostacoli maggiori che incontra una donna nel corso della propria carriera? Sicuramente la diffidenza iniziale, perché la maggior parte delle imprese sono molto maschili, obiettivamente, quindi dopo questo impatto bisogna farsi valere e far scoprire le proprie qualità nello specifico settore, dove dobbiamo essere sempre molto preparate e professionali. Secondo me sono qualità che rispecchiano tutte le persone che si impegnano e in particolare le donne che hanno le capacità adeguate nel settore che le riguarda. Quindi ci sono delle piccole barriere all'ingresso, diciamo, che poi vanno superate. Allora, secondo Meeting Fare Impresa, lei ha ricevuto come premio l'Aquila Reale, è un momento importante soprattutto da condividere con altri imprenditori, per fare conoscenza, per stringere dei rapporti di business. Ma cosa può rappresentare l'Aquila Reale in questo momento? Beh, io, a parte che sono molto onorata, ma ho trovato tutta la situazione molto importante per nuove sinergie, per conoscere anche delle attività che sinceramente mi erano sconosciute, come magari la nostra ad altre importanti realtà territoriali. Quindi credo che sia fondamentale iniziare a guardare anche in casa le potenzialità che abbiamo e non cercarle sempre fuori dalla nostra regione, perché credo che ci siano tutte le carte in regola per farle funzionare ancora meglio. Allora, Presidente, in questo periodo difficile forse una delle leve più importanti per poter crescere è quella della ricerca e dell'innovazione. Sappiamo che il suo gruppo punta tantissimo su questo valore, ecco, chiamiamolo così. Ma non è il momento. C'è un economista che si chiamava Schumpeter, a mio giudizio il più grande economista del XX secolo, e lui diceva che l'impresa che non innova è un'impresa che ha i giorni contati, perché sicuramente gestisce un pregresso e pian piano non sarà più competitiva e in qualche maniera il mercato farà giustizia di essa. Quindi non è un fatto dovuto alle tecnologie nuove che si identificano nell'innovazione. L'innovazione è un processo culturale, prende parte proprio, parte dalla conoscenza, la filiera dell'innovazione parte dalla conoscenza, diventa ricerca, la ricerca diventa trasferimento tecnologico e poi diventa innovazione. Perché se io faccio l'invenzione del secolo, però nessuno la compra, non è innovazione, rimane un'invenzione. Ecco, in questo discorso il nostro gruppo che lavora sulla sicurezza sia delle persone, dei beni, sulle città, siamo dentro i nuovi concetti di Smart City, ha fatto dell'innovazione un fatto centrale, ma non per scelta, ma per rimanere competitivi e essere impresa.